Buon Natale a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi della comunità in dialogo, quelli che oggi sono in giro per il mondo ma anche quelli che sono stati in questa comunità. Natale deve spingerci a riflettere sull'importanza dell'essere donne e uomini, dei valori che albergono nel nostro cuore e che devono permetterci di poter andare sempre e comunque avanti. Io ho imparato tanto da questa comunità, ringrazio Padre Matteo per tutto quello che ha fatto per tutti quanti noi, per l'esempio, per la forza e quella forza gli deriva da qualcuno che sta lassù e qualcuno che è nato la notte di Natale. Io sono convinto che quel bambinello aiuterà tutti quanti voi. Buon Natale e felice 2018!